Let's go, bitches! Sono Power, il vostro guardiano preferito, e oggi vi farò vedere 5 nuovi spettri da prendere dopo la patch 2.0. In questo caso 2 li troviamo in un ride alla fine di crota, mentre altri 3 dovremo fare dei glitch nei muri nella pattuglia per poter arrivare in queste zone che sono state abilitate. Vi farò vedere anche come fare questo glitch attraverso il muro e come arrivare a prendere gli altri 3 spettri. Partiamo subito dai 2 spettri più semplici da prendere che sono quelli all'interno della fine di crota in ride. Allora, uno si trova nell'abisso e ora vedrete qual è la strada che dovete prendere e dove si trova precisamente dato che è un pochino nascosto. Bene, ecco qui trovato lo spettro che si trova subito nella parte iniziale. Ora andiamo all'ultimo che si trova alla fine di crota, cioè proprio il combattimento prima con Iriut per prendere lo spettro, il secondo spettro di The Taken King. Una volta fatto lo step di Iriut, cioè di aver ucciso le cantamorti, di aver ucciso gli urlatori e poi lei, vi basterà andare nella stanza di sinistra guardando il monumento, diciamo, le varie colonne che si montano quando esce crota, saltare sopra la porta che vedete e prendere lo spettro che si troverà sopra le catene nella stanza a sinistra. Ok, abbiamo preso il secondo spettro, andiamo subito a vedere quelli che sono i terzi e il quarto spettro, che si trovano in una zona vicino al bunker del, diciamo, del Serafino, quello di Rasputin. Allora dovete andare sul cosmodromo in pattuglia e fare questo tragitto. Una volta arrivati alle grotte, in questo caso dovrete cercare di baggare il muro, in questo caso vi faccio vedere come. Praticamente vi basterà aprire lo spettro, girarvi verso destra fino a che non si abilita la possibilità di salire sul veicolo con quadrato, girarvi poi verso il muro e cercare di accelerare con la store per entrare attraverso. Ci sono due modi per fare questo glitch. Uno è stando ovviamente sulla destra del muro, allontanandosi fino a che non utilizza veicolo, poi girandovi di colpo e mentre state caricando, cioè mentre state tenendo premuto quadrato per attivare la store, vi farà salire a bordo e vi farà entrare nel muro. Ovviamente accelerate e sprintate con tutti e due grilletti se avete la store più veloce per farlo più velocemente e più facilmente. Bene, siamo nella zona glitchata, ora seguite il path che faccio io, cioè la strada che sto percorrendo, in modo da arrivare a quella che è la prima parte, cioè le miniere. Ci saranno vari caricamenti, vari punti in cui dovrete saltare, eccetera eccetera. Non è proprio facile se siete da soli o comunque qualcuno che non l'ha fatto, seguite attentamente la strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E arriviamo all'interno di quello che sembra una parte proprio della zona di Rasputin, e proprio accanto infatti alla zona del Serafino. In questo caso al Bunker War 4, in cui ci saranno tra l'altro anche dei nemici da uccidere. Qui troverete lo spettro sopra questa rampa di vetro e poi andrete dove sopra ci sono le luci per poterlo prendere. Rianimato questo spettro passiamo subito al prossimo che si trova nella miniera, come viene chiamato, che invece è la zona da cui potremo entrare, accedere a questa parte e poi al Bunker War 4. Le miniere vi basterà andare qui dal Bunker War 4 e troverete queste parti cibernetiche, non so nemmeno io come chiamarle, che sembrano più che altro qualcosa tipo di propulsione, non lo so, forse di alimentazione per Rasputin. E qui lo troverete dietro uno di questi motori barra propulsori, non so nemmeno io come chiamarli, e rianimerete questo spettro morto che vedete qui, che vi sto facendo vedere. Bene, siamo a 4 spettri, ora passiamo al quinto. Qui è un po' più particolare come dovete, diciamo, il patter che dovete fare, il patter è un pochino più particolare, la strada. Allora, siamo qui, sempre cosmodromo, pattuglia ovviamente. Dovete andare, in questo caso, nella zona della Tanna dei Diavoli, diciamo dell'assalto Tanna dei Diavoli, e dovete arrivare dove trovate il Camminatore dei Diavoli. Ovviamente ho accelerato, lasciamo perdere il bidone che ovviamente muore in continuazione contro un Camminatore di bassissimo livello. Bene, questo è il muro che dovete cercare di buggare, di passare attraverso, di glicciare, e il mio consiglio qui è di utilizzare le ossa di Ao e il triplo salto del Gunslinger per riuscire a fare una parte, poi ovviamente per evitare errori di salto. Seguito ovviamente questa strada è quello che sto facendo, perché a volte non vedrete bene dove andare, dato che ci saranno muri e altre cose. In questo punto dovrete andare avanti e fare il caricamento di quella che è la nuova zona. E ora prestate attenzione, dovete sfruttare le ossa di Ao e i quattro salti assieme al triplo salto per poter arrivare sopra a questo muro. Praticamente questo muro ha come una barriera che vi fa, diciamo, evitare di andare in quella zona. Voi dovete cercare di fare il terzo e il quarto salto velocemente, quindi XX velocemente, per cercare, ovviamente poi se avete un altro tasto, comunque il tasto per saltare, in modo così di passare subito sopra il muro. Una volta arrivati in là, la zona vi dirà che avete 5 secondi prima che morirete, che verrete uccisi. Cosa fare qui? Mettetevi in questo punto che vedete dove sono io, in modo che non vi segnala la morte degli architetti. E una volta arrivati a lì, utilizzate sempre le ossa di Ao perché non potrete saltare, dovete farlo velocemente, per buttarvi di sotto. Siete nella zona di setkits primo. In questo caso proseguite dritti dove vedete Idrats. Bene, eccoci nella nuova zona che è il pinnacolo dei diavoli e l'ultimo spettro, il quinto spettro, si trova qua sopra, sopra queste piazze di metallo. Dovete andare qui, ovviamente con il doppio salto, jetpack, quello che avete, e prendere lo spettro al volo. Siamo arrivati alla fine del video, bitches, spero vi sia piaciuto questo mini tutorial su come prendere i 5 spettri che sono stati aggiunti con la patch 2.0. È possibile che ci siano altri spettri in altri posti da glitchare. Questi sono quelli che abbiamo trovato noi. Un ringraziamento speciale va a Idrats, Bidon e Canecauro. Let's go, bitches! Let's go, bitches!